Un appuntamento dovuto stasera proprio alla città di Cela, anche per ricordare gli ultimi attentati di Berlino e per regalare alla città un momento di riflessione, di pausa, di serenità perché stasera nella chiesta di San Giacomo verrà eseguito un concerto, tutto quanto eseguito dai nostri cantanti, dai nostri artisti celesi che riproporranno le tradizionali canti natalizi. Sicuramente sarà una serata piacevole, quindi noi vi aspettiamo stasera alle 20.30, mi raccomando, non mancate perché sarà una serata magica, piena di messaggi e ricca di emozioni. Ma ci sarà, Horazio Di Giacomo, anche un connubio, musica e prosa. Esatto, questo nasce dalla collaborazione mia e del professor Biagio Pardo, che ringrazio tantissimo, proprio perché l'arte di suo deve essere mista, non deve essere soltanto una. Quindi lavorare di gruppo, anche con arti che a noi non appartengono, arricchisce proprio il nostro bagaglio culturale e artistico. Poi ringrazio comunque tutti quelli che verranno e l'invito, ci vediamo stasera alle 20.30, Chiesa San Giacomo. Quanti artisti hanno già dato il loro assenso alla manifestazione di questa sera? Gli artisti sono tanti, saremo 20-25 artisti, anche perché oltre agli artisti, dei cantanti, attori, ci saranno anche dei musicisti, quindi andremo anche con la musica dal vivo. Grazie. Grazie.